mi sa proprio di sì comunque ragazzi intanto eccoci in un nuovo episodio qui abbiamo un'altra quindi non è una fortezza ma era un bastione mentre l'unica fortezza che abbiamo trovato era quella ops lontana qua sono senza e quindi a 1933.67 1893. 1934. 1934. 1934. 1934. C'è qualcosa che non mi vuole. Sì. 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 Eccola la infatti. ma questo è pure un altro bastione quindi no sto tornando indietro ragazzi grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E quindi dobbiamo andare... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 1.893 E... 1.893 E... 1.893... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 E... 1.893 1.893 1.893 1.893 1.893 E... Uhhh. Qua c'è una doccia. Quindi ci sono stato. 3.893 Sto facendo... 3.893 Un altro percorso. Allora... 1893 ci siamo, 67 di qua, giusto? 1933 di qua. 1993 ci siamo, 60 di qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.